Ciao a tutti! Continuiamo con Trapcode Particular. Oggi vediamo come si generano particelle secondarie, cioè particelle che nascono dalle particelle stesse. Praticamente questo significa che ogni particella può a sua volta generare altre particelle e come vedremo il risultato pratico più comune è che ogni particella lascia dietro di sé una scia di altre particelle appunto. Una volta esplorati i vari parametri che gestiscono queste particelle secondarie e questi parametri li troveremo in questa sezione qui in basso AUX SYSTEM, AUXILIARY SYSTEM, ecco una volta visti questi parametri, come esempio pratico poi creeremo una serie di fuochi d'artificio che ho già realizzato e che direi di vedere subito. Benissimo, qui ci sono rappresentati praticamente tre tipi di fuochi d'artificio. Alcuni sono sparati dal basso come questi qua e assomigliano a tanti getti di fontana colorati, poi qui in mezzo al cielo abbiamo tante piccole esplosioni colorate oppure ancora queste singole grandi esplosioni cadenti con vari tipi di scie colorate. Benissimo, iniziamo. Come vedete il particolar lo già è settato e prima di andare a vedere i parametri delle particelle secondarie semplifichiamo un po' la situazione di partenza. Innanzitutto anziché avere una emissione continua di particelle come in questo caso direi di creare una semplice esplosione di poche particelle. Quindi come comportamento generale delle particelle in emitter impostiamo anziché continuous explode. Benissimo, a questo punto ci rimangono veramente poche particelle quindi subito direi di aumentare la quantità e più o meno intorno ai 500. Penso che bastino. E siccome si tratta di un'esplosione direi di aumentare anche un poco la velocità e la porterei a 6-700. Benissimo. E ora vediamo di far nascere le particelle secondarie. Quindi come ho detto all'inizio bisogna andare nella sezione AUX system qua in basso, l'apriamo e per attivare tutti questi parametri che al momento sono disattivati in questo primo menu bisogna scegliere la voce continuously. Attiviamola e a questo punto come vedete dietro ogni particella abbiamo una scia di altre particelle, appunto le cosiddette particelle secondarie. Bene, tutti i parametri che gestiscono le particelle secondarie ad eccezione dei primi tre, emit probability start stop emit, questi qui, tutti dicevo sono praticamente identici a quelli delle particelle primarie, cioè gestiscono la quantità di particelle, la velocità, la vita, la dimensione, l'opacità, il colore, eccetera. Per cui direi prima di vedere questi qua rapidamente e poi dopo torniamo ai primi tre che sono invece specifici delle particelle secondarie. Allora il primo parametro che ci capita è particelle al secondo. Se lo aumentiamo come vedete aumenta la quantità di particelle secondarie che rimangono dietro quelle primarie. Ecco magari in questo caso lasciamolo intorno ai 100 così abbiamo una quantità discreta di particelle secondarie. Poi abbiamo il parametro che gestisce la velocità, come vedete ora è a zero e quindi le particelle rimangono ferme nel luogo in cui nascono e quindi segnano proprio il percorso che fanno quelle principali. E se aumentiamo la velocità queste particelle cominciano a sparpagliarsi un po' intorno e creano una coda meno precisa. Ecco anche in questo caso direi di lasciare un valore maggiore di zero magari intorno ai 40. Benissimo. Poi abbiamo il parametro Inerate Main Velocity che è impostato a zero. Se lo aumentiamo allora alla velocità delle particelle secondarie si somma un po' anche la velocità di quelle primarie. Se questo parametro lo portiamo al massimo cioè a 100 come vedete ora le particelle secondarie hanno la stessa velocità di quelle primarie quindi si muovono insieme con loro. In questo caso direi di riportare il valore a zero. Bene. Poi abbiamo la vita che al momento è impostata a 0,5 che significa che ogni particella secondaria vive mezzo secondo. Se lo aumentiamo le particelle vivono di più e il risultato visivo che otteniamo è che la coda si allunga dietro le particelle primarie. Bene. Lasciamolo pure impostato così. Poi abbiamo ovviamente la Life Random che crea una variazione della durata delle particelle secondarie. Poi abbiamo il tipo di particella che al momento è impostato su Inerate From Main. Cioè le particelle secondarie al momento sono identiche a quelle principali. Le principali sono delle sfere quindi anche le secondarie sono delle sfere. Però se apriamo questo menu come vedete abbiamo le stesse identiche opzioni che avevamo per quelle principali quindi potremmo ad esempio in questo caso modificarle in stelle e quindi le particelle primarie adesso sono delle sfere e le particelle secondarie sono delle stelle. Come vedete è possibile anche impostare come particella secondaria una particella personalizzata usando Sprite o Textured Polygon. Bene. Però in questo caso direi di ritornare all'opzione principale cioè particelle uguali a quelle primarie. Poi abbiamo ovviamente la Size che è la dimensione delle particelle. Possiamo ingrandirle o rimpicciolirle. Lasciamole pure così. Ovviamente la Size Random che crea variazione di grandezza. Lasciamola pure al 50%. Poi abbiamo il parametro Size Over Life che fa sì che le particelle secondarie cambino grandezza nel tempo e dall'elenco dei preset possiamo usare la seconda opzione che fa sì che le particelle secondarie nascano grandi e si rimpiccioliscono col tempo. Benissimo. Lasciamo pure così. Poi abbiamo il parametro di opacità che al momento è impostato al 50%. Quindi le particelle al momento sono semi trasparenti. Quindi se vogliamo possiamo aumentare o abbassare l'opacità delle particelle. Benissimo. Poi ovviamente l'opacità random e poi come sappiamo l'opacità durante la vita. Ma in questo caso direi di non intervenirci sopra. Bene. Poi abbiamo ancora i parametri che gestiscono il colore. Possiamo impostare un colore unico come è impostato adesso con l'opzione At Start. Oppure possiamo cambiare il colore durante la vita o con colori a caso all'interno di un gradiente. Ecco magari in questo caso è più interessante se cambiano colore durante la loro vita. Quindi scegliamo Over Life e nella sezione Color Over Life possiamo impostare i colori che vogliamo. Al momento abbiamo la classica rappresentazione dal rosso fino al blu. Bene. Lasciamo pure questa qui. E poi abbiamo un paio di righe sopra Color From Main che al momento è a zero. Se noi lo aumentiamo al colore che abbiamo impostato adesso si aggiunge anche il colore delle particelle principali. Se questo parametro lo portiamo al 100% allora le particelle hanno lo stesso identico colore di quelle primarie. Bene. Però direi di riportarlo di nuovo a zero. Benissimo. E poi gli ultimi parametri che sono simili a quelli della sezione Physics delle particelle principali. Cioè abbiamo la gravità che se aumentiamo attira le particelle secondarie verso il basso. Oppure se diminuiamo la tira verso l'alto. E poi proprio in Physics abbiamo gli ultimi tre. Cioè la resistenza dell'aria che se aumentata come vedete si contrappone alla velocità delle particelle secondarie. Eh magari questa lasciamola leggermente positiva così a tre. Poi abbiamo Wind Effect e che ha a che fare con il vento. Però in questo caso anche se lo aumentiamo non agisce sulle particelle secondarie perché entra in funzione soltanto se è attivo il vento principale del sistema impostato nella sezione Physics. Quindi lasciamolo pure a zero. E per ultimo Turbulence Position che se aumentato scompiglia appunto le particelle con un po' di turbulenza. Benissimo. Questo magari riportiamo di nuovo a zero. Bene. Torniamo adesso ai primi tre parametri che avevamo lasciato indietro. Incominciamo dal primo. Emit Probability stabilisce quante particelle primarie emettono particelle secondarie. Ora è impostato al cento per cento. Cioè tutte le particelle primarie emettono particelle secondarie. Se questo valore noi lo abbassiamo per esempio lo portiamo a 50 per cento. Adesso come vedete soltanto metà delle particelle emettono particelle secondarie. L'altra metà come queste qui non emette particelle secondarie. Bene. Riportiamolo a cento. E poi abbiamo start e stop emet. Che gestiscono quando le particelle secondarie nascono rispetto alla vita delle particelle primarie. Al momento le particelle principali vivono per tre secondi. Nascono tutte a zero e muoiono tutte a tre. E anche le particelle secondarie nascono in ogni momento fra zero e tre secondi. Ma se noi per esempio portiamo il parametro start emit a 50 per cento. Adesso le particelle secondarie non nascono fino a un secondo e mezzo. Cioè a metà della vita delle particelle primarie. E poi da un secondo e mezzo in poi cominciano a nascere fino a tre secondi. Bene. Riportiamolo a zero. E stop emit invece stabilisce quando smettono di nascere. Se anche questo parametro per esempio lo portiamo al 50 per cento. Ora vediamo che fino a un secondo e mezzo le particelle secondarie nascono. E da un secondo e mezzo in poi non nascono più. Bene. Anche lui riportiamolo al suo valore originale cioè a cento per cento. Benissimo. Adesso come esempio creiamo appunto quei tre tipi di fuochi d'artificio che abbiamo visto all'inizio. Magari cominciamo da questa grande esplosione colorata visto che già assomiglia molto a quello che abbiamo ottenuto fin qua. Innanzitutto direi di aumentare un po' il numero di particelle principali. Quindi torniamo in emit e come particelle al secondo aumentiamo a circa millenove duemila particelle così. Poi siccome si tratta proprio di un'esplosione direi di aumentare di più la velocità e poi di trattenere le particelle con un po' di resistenza dell'aria e farle anche un po' cadere verso il basso con un filo di gravità. Quindi incominciamo con la velocità. Portiamola magari intorno agli otto novecento più o meno così e poi scendiamo nella sezione physics e come abbiamo detto aumentiamo un po' la gravità magari intorno ai trecento. Perfetto. E nella sezione air aumentiamo un po' la resistenza dell'aria in modo che le particelle non si allontanino troppo. In questo caso direi che uno può andare più che bene. Perfetto. Come si vede le particelle muoiono tutte quante contemporaneamente quindi direi di agire anche un po' sulla vita. Quindi nella sezione particle magari abbassiamo leggermente la vita generale anziché tre secondi la abbassiamo magari intorno ai due ma soprattutto aumentiamo la life random così appunto non muoiono tutte contemporaneamente perché qualcuna vive di più e qualcuna vive di meno. Bene. Poi andiamo nella sezione delle particelle secondarie e direi di aumentare leggermente la quantità di particelle secondarie magari di questa quantità qua e direi anche di renderle un poco più brillanti impostando il loro metodo di fusione su add. E il metodo di fusione delle particelle secondarie ce l'abbiamo qui. Al momento è su normal come dicevo lo mettiamo su add. E adesso sono più chiare perché si sovrappongono di più fra di loro. Bene. E come ultima cosa volendo possiamo anche cambiare i colori. Questo lo facciamo in color over life. Possiamo impostare come sappiamo qualsiasi colore oppure possiamo semplicemente cliccare su questo bottone randomize e facendo così si generano dei colori casuali. Ecco magari lasciamo questo qui che mi sembra abbastanza interessante. Perfetto. Adesso direi di creare un altro tipo di fuoco d'artificio e direi di creare quelli sparati dal basso perché hanno molto in comune con quelli che abbiamo appena creato. La differenza sostanziale è che quello appena fatto è una singola esplosione mentre questi qui sono un'emissione continua di particelle come dei getti d'acqua di una fontana. Bene. Quindi direi di duplicare questo livello in modo da avere poi alla fine entrambi i tipi di fuochi. Quindi lo seleziono. CTRL D. Uno delle due copie la spegniamo e poi la riaccenderemo alla fine per fare la preview finale. E quindi la copia rimasta visibile la modifichiamo. Come abbiamo detto anziché un'esplosione vogliamo un'emissione continua. Ovviamente adesso abbiamo troppe particelle quindi diminuiamo sensibilmente la quantità. Io direi di scendere fino a 10. Bene. Al momento le particelle vengono sparate in tutte le direzioni mentre noi vogliamo che vengano sparate solo verso l'alto. Quindi nella sezione Direction impostiamo Directional. Così facendo le particelle vengono sparate lungo l'asse Z ma noi viaggiamo sulla X Rotation e impostandola a 90 gradi facciamo sì che le particelle vengano tutte sparate verso l'alto. Magari distribuiamo anche un poco di più a destra e a sinistra aumentando la Direction Spread. Intorno ai 40 penso possa andare bene. E poi abbassiamo l'emitter qua giù in basso. Perfetto. Vediamo se va bene. Direi che bisogna aumentargli anche un po' con la velocità in modo che arrivino un po' più in alto. Quindi agiamo su Velocity e arriverei più o meno intorno ai 1200. Perfetto. E ora il colore. Non vogliamo che tutte le scie siano colorate allo stesso modo ma vogliamo che ognuna abbia lo stesso colore delle particelle primarie. E ovviamente le particelle primarie le vogliamo un po' di tutti quanti colori. Quindi intanto andiamo nei parametri di colore delle particelle secondarie e portiamo Color From Main a 100%. Quindi torniamo su fino ai colori delle particelle primarie e aumentiamo il parametro Color Random a 100%. Benissimo. Quindi anche questo secondo tipo di fuoco d'artificio direi che lo abbiamo fatto. E ora il terzo tipo di fuoco che sono un po' diversi dagli altri. Sono tante piccole esplosioni colorate distribuite a caso in uno spazio qui a mezz'aria. Quindi torniamo di nuovo in After Effects. Duplichiamo anche questo ultimo fuoco d'artificio. Quindi lo seleziono Control D. Spegniamo il precedente. L'ultimo anziché modificare i parametri direi di ricominciare da capo. Quindi clicchiamo sul pulsante azzurro in cima Reset in modo appunto da resettare tutti quanti i parametri. Allora la prima cosa che facciamo è far nascere le particelle in punti a caso in uno spazio qui in mezzo al cielo. Quindi anziché farle nascere da un punto in questo caso direi di usare più che l'opzione Box l'opzione Sfera. Bene. Al momento nascono all'interno di una sfera grande così direi semplicemente di aumentare il raggio della sfera. Quindi in Emitter Size anziché 500 raddoppierei e lo porterei a circa 1000. Perfetto. Poi facciamo sì che le particelle non si muovano, rimangano ferme nel punto in cui nascono. Quindi azzeriamo la velocità e poi vogliamo che abbiano una vita brevissima, giusto una frazione di secondo e in quell'attimo devono poi emettere delle particelle secondarie come tante piccole esplosioni. Quindi innanzitutto andiamo in Particle e abbassiamo drasticamente la Life e direi di scendere quasi a 0. 0.1 penso che sia più che sufficiente. Quindi come vedete le particelle nascono qua e là e le vediamo giusto un istante. Però direi che sono ancora un po' troppe. Quindi torniamo in Emitter e anziché 100 particelle al secondo abbasserei drasticamente e scenderei a 20. Benissimo direi che così sono più che sufficienti. Bene e ora vogliamo che siano un po' di tutti quanti i colori come i fuochi precedenti. Quindi andiamo a cercare Color Random e lo portiamo al 100%. E ora le particelle secondarie. Vogliamo che siano dallo stesso colore che vengano sparate intorno a quelle primarie. Quindi scendiamo in Auxiliary System, riattiviamo di nuovo le particelle secondarie impostando Continuously e la prima cosa che facciamo è aumentare la velocità. Aumenterei abbondantemente intorno ai 300. Perfetto. Mi sembrano un po' troppo poche quindi aumentiamo anche la quantità. Anche qui abbondiamo intorno ai 200 magari. Perfetto. Ora come abbiamo detto prima vogliamo che abbiano lo stesso colore delle primarie quindi scendiamo nella zona dei colori e Color From Main lo portiamo a 100%. A questo punto direi di aggiungere anche un po' di resistenza dell'aria in modo che queste particelle non si allontanino troppo dal punto in cui esplodono. Questo lo facciamo nella sezione Physics e aumentiamo Air Resistance intorno a 3. Direi che va benissimo. bene ora la dimensione. Vogliamo che si rimpiccioliscono col tempo quindi in Size Over Life attiviamo il secondo preset così e aumenterei un poco anche la vita perché mi sembra che vivano troppo poco. Quindi torniamo più in su e la Life che al momento è impostata a mezzo secondo direi di aumentarla fino a circa un paio di secondi e poi anche un po' di Life Random in modo che qualcuna viva di più e qualcuna viva di meno. E per quanto riguarda l'opacità in questo caso anziché 50 la porterei al massimo al 100%. Perfetto. A questo punto aumenterei soltanto un po' di gravità in modo che cadano un po' verso il basso. Quindi torniamo di nuovo agli ultimi parametri e aumentiamo la Gravity intorno ai 200. Perfetto. E direi che ci siamo. Allora riaccendiamo di nuovo anche gli altri due fuochi d'artificio. Magari la grande esplosione la facciamo arrivare un poco più in ritardo quindi la spostiamo avanti nel tempo intorno ai 2 secondi e come ultimissima cosa prima di fare la preview finale direi di aggiungere anche un po' di bagliore complessivo in modo che i colori e la luminosità risaltino un po' di più. Quindi aggiungiamo un livello d'aggiustamento e lì ci applichiamo un effetto bagliore. Quindi Layer New Adjustment Layer e l'effetto bagliore lo troviamo in Style Eyes Glow. Immediatamente i colori diventano più incandescenti e in questo caso ci limitiamo ad aumentare il raggio del bagliore in modo che si diffonda bene intorno tra i 200 e i 250. Benissimo e adesso la preview finale. Perfetto, quindi la lezione di oggi finisce qua e ci vediamo alla prossima. Ciao!